Sempre rappresentanze regionali che stanno appunto a Ferraria. Il Palio per Pesce panno donne da tutti i corteggi delle realtà storiche che loro invitano. Il Palio per Pesce significa moltissimo, tant'è che l'amministrazione ci investe la parte più cospicua delle sue risorse per quanto riguarda manifestazioni culturali e turistiche. Questo perché coinvolge tutti i cittadini che ci lavorano non solo in questa settimana delle manifestazioni ma 365 giorni l'anno allenandosi naturalmente gli erceri, i tamburini e tutti coloro che fanno la parte coreografica, gli sbandiratori ma anche lavorando per trovare le risorse perché tutti questi costumi che verranno sfoggiati nel corteggio di domenica hanno un costo elevato perché sono fatti come rievocazione naturalmente precisa e puntuale ma poi anche perché ci sono tutti questi abbellimenti, questi spettacoli che vengono fatti nella settimana delle scene che naturalmente richiedono tante risorse. Ecco perché voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno lavorato e che hanno prodotto questo bellissimo risultato. Ci riporta un momento storico in cui Firenze e Luca vivevano una situazione di conflitto anche per la necessità sul territorio di consolidare i propri possedimenti e in quel caso fu Firenze a avere il sopravvento con una pescia che è sempre stata crucivia dei rapporti fra Firenze e Luca e che ha avuto per questo poi progressivamente una sua identità, una sua storia, una sua ricchezza perché il patrimonio culturale di pescia è di grandissimo significato fino a arrivare ai rapporti che in questo momento fra Firenze e pescia vi sono per Collodi che nell'Ottocento caratterizza il territorio con la capacità evocativa di citare questo borgo pesciatino come proprio pseudonimo, lui l'autore di Pinocchio, il libro più tradotto nel mondo. Il secondo ordine di motivi è da un punto di vista tecnico delle manifestazioni storiche, è la più importante competizione storica che in Toscana si muove con il tiro con l'arco. Toscana vede delle belle competizioni sulle barche, il gioco del ponte a Pisa, poi a Levorno e poi all'Argentario. Il movimento dei cavalli è il caso del Palio di Siena, è il caso della giostra di Saracina d'Arezzo, della giostra dell'Orso a Pistoia, della manifestazione che si svolge a Fuscecchio. Il calcio e quindi la palla è il caso di Firenze, del Galluzzo, di Prato. In questo panorama così ricco e vario le manifestazioni impostate sull'arco trovano a pescia la sua capitale. Il terzo riferimento è per la ricchezza dell'offerta che viene fatta a pescia, sia il gioco della palla per i bambini, sia il concorso delle dame, accanto al Palio degli Arcieri. Quindi una manifestazione che in realtà riesce a far vivere il senso della storia a pescia per più giorni, non solo per il gioco storico classico come avviene da altre parti. Intendersi un concorso da Miss con le donne e costume rinascimentali.